Però io poi lancio un appello e lo lancio ai proprietari della ONLUS. Gianmarco Centinaio, che è cattivo, è un leghista, brutto, mediamente anche un po' razzista, pensa che queste ONLUS stanno guadagnando, guadagnando, tanti anche tanti bei soldini, sfruttando il discorso dell'accoglienza. Sorprendete Gianmarco Centinaio dicendo che una parte del vostro guadagno lo utilizzate per dare una mano a una famiglia italiana. Questo sarebbe dare una risposta ai leghisti cattivi che accusano tutte quelle cooperative, non è solamente la cooperativa che ha a che fare con loro, ne conosco decine. Voglio sentire, sì, so, volete parlare tutti, giustamente, voglio sentire un commento. Sorprendetemi e io sarò disponibile a dire, avevate ragione e fate bene a fare quello che state facendo in questo momento. Noi speriamo che questa ONLUS batta un colpo, se ci vogliono contattare siamo qui.